a ok giorno 42 signori siamo vivi per qualche motivo e siamo qua ricordo al zona dei generatori credo di sì ma che ti serve a te il martello e le medicine e una torre ma io ho un momento qua e tu da un'altra parte così si spingono da di loro se funziona è un genzo cazzo c'è e che ciò la regalica capito non è che ho mani ah già ma buongiorno farmiamo un po' di ex ci siamo oh dietro l'ha buffato giù ma da dove è uscito questo? non lo so ma come è uscito scusa qua la porta è chiusa eccoli eccoli mamma mia che bordengo mi lagga tutto ma come ho fatto? vai mi sposta un attimo questo qua perfetto perfetto ma da dove è uscito? non lo so non lo so boh è sponato ha detto eh che la martello è chiusa si si è no vabbè mutande signor copy è schifo sarà questa la nostra fine probabilmente scopriremo il resto mi scenderei come la vedici così? ma che ne so? so pia la linea pure infinito oh 2000 anni later l'andata 49 più easy della storia oh ma dove si stanno a buttare? ah da dove ho fatto il buco secondo me li riusci a prenderla adesso non c'è nessuno oh chi è questo? ci fa vicino non passa nessuno cazzo che cazzo l'ha buttato giù? no allora ci fa vicino che cazzo che cazzo il sommo è troppo che cazzo la scena dc è No! Non so, non so, non so Non so, non so Non so, non so Non so, non so C'è calcolante qui? Ma quant'è su? Andai a sparare un po' avanti Come venga? Ma fa un culo Mi sta iniziando Lei ha bloccato, che è che mi sta bloccando? C'è io? No, c'era uno strunza alle spalle Che è? Ah, è un kamikaze No, è un kamikaze Ah già C'è? C'è? Tiempo Cazzo Passa, quello giusto Oh, chi è sto cugolo dei cugoli? In pace Mattè, Mattè dietro Sono scesi tutti Scappa Oh cazzo, ma qua Cosa Cosa Oh, cazzo Cosa 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 Aia, non ha lesparare al contrario Cosa 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 Oh Senso che basta, spara Eccoli, eccoli, arriva uno da... Ah, chi tesi? I primi sanno a prendere le drappole C'è la storia di qua Non mi aspettavo questa facilità Prendi i verdi Cazzo, sono già qui Mattei via 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 Cazzo Ah, fanno Andiamo, andiamo, ti tirate Ti tirate Accendi, accendi Non è acceso Eh, se non apri tu io non posso perché mi... Ma io... Sto provando da qui, non si apre, perché non si apre? Vieni dentro Vieni dentro Vai 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 Che vuoi tu? No, ma... Ma manca un coso Che manca? Ma che hai dato un colpo... A qualcosa? No Hai spaccato uno switch Che ci manca? Io non ho dato niente, forno eh, ma... Ma... E ora c'abbiamo una torre, c'è una frappola che non va Non è che l'hai rotto col zoom? Eh, come? Non ci arriva Quanto sei entrato già non c'era Come non c'era? Lui in Mono ha visto qua, stava qua Io ne avete avuto due in un giro Vai spegnilo Vai Veloce Vai 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 Cazzo No Ricarica la torrezza Si Ma l'altra non l'era corta però La tua non sparava Ah no si attiva Si attiva Si attiva solo se ci sta Ma se no si attiva questa qua non ci può Poi Ehm Poi Perché gli fai solo headshot Non Poi abbiamo tutto il tempo per mirarli Oh che cazzo Ecco hanno rotto No Oh no Sì, sì, sì. Volevo guarda. no 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 è stato liberato no 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 MMMONSTER KILL! Ok, perfetto, quasi.